Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ci sono intersecati i vari problemi imprevisti. Io mi chiamo Sergio Cattani, sono qua con Wolf Bukowski. Oggi inizia il Festival dell'Oltre Economia che fino al 3 giugno vedranno susseguirsi di laboratori, di momenti di approfondimento, vari eventi, tutti quanti uniti dall'argomento di quest'anno che è comunità in movimento. Oggi in particolare il dibattito sarà imperniato sulla cosiddetta disgregazione delle comunità, comunità a termine molto in voga qua in Trentino che esiste in varie salse dalle comunità locali alle comunità di valle eccetera. Esiste proprio inserito a livello istituzionale, perciò comprendiamo bene l'ambivalenza del termine comunità usato qua a Trento. Il tema più specifico di oggi è tramantra securitario e retorica del degrado. Allora, so che alcuni di voi si aspettavano purtroppo un dibattito più ampio, però le persone che avrebbero dovuto essere presenti, cioè Carmen Pizzanello e Clara Delva, purtroppo nel primo caso a causa di un lutto e nel secondo caso per imprevisti sfortunati, non possono essere con noi. Perciò do il benvenuto a Wolf che ormai possiamo dire che è affezionato di questo festival perché è la seconda volta che è presente, due anni fa era con noi per la presentazione della danza delle mozzarella e poi è ritornato per la Santa Crociata del Porco. Oggi ci spostiamo dal termine, dall'alimentare e andiamo su un argomento che ha riempito e sta riempendo le cronache, specialmente politiche, ma non solo, dei giornali da qualche anno. Molte volte abbiamo sentito parlare di lotta al degrado, difesa del decoro, ripristino della legalità, parole presenti non più tardi di sabato scorso sugli striscioni di una manifestazione tenuta a Trento riferita alla piazza della Portela dove da almeno cinque anni se non di più un comitato di quartiere non perde occasione di sottolineare i gravi problemi, al loro modo di dire di sicurezza e siamo arrivati al punto in cui i partiti, i cittadini, un arco piuttosto ampio tra cui il PD si è unito a manifestare dietro questo striscione anche assieme alle estreme destre, ovvero Casa Pound e Lega Nord, chiaramente. Volevo riportare una frase presente oggi proprio da parte del comitato di quartiere sul giornale Adige siamo convinti che con un'azione intensiva davvero costante da parte delle forze dell'ordine questa parte di città possa rinascere da una situazione che sembra davvero giorno dopo giorno senza speranza. Stiamo parlando di Trento, del centro di Trento stiamo parlando, questo è il modo in cui viene dipinto da parte di un comitato di quartiere. Da quando abbiamo deciso di dare questa connotazione al dibattito, sembra che la cronaca politica ci abbia preso gusto a parlare di degrado del coro ripistano della legalità. Abbiamo sentito parlare di esercito, di recintare, di esercito a pattugliare la città, in particolare Piazza della Portela, abbiamo sentito parlare di recinzione attorno a Piazza Dante, abbiamo sentito parlare di chiusura dei negozi etnici, proibizione dell'elemosina. Abbiamo sentito parlare di questi termini da molti punti di vista e sempre in un'ottica repressiva, chiaramente, perché la sicurezza avvenne prima di tutto. Wolf, ti do lo spunto partendo dall'inizio. Quando è che si è cominciato a inserire nella cosiddetta agenda politica queste parole degrado e a mettere in primo piano proprio la sicurezza? Noi a Trento lo sentiamo da qualche anno, ma non da tantissimo. So che tu hai fatto anche un approfondimento per vedere da dove il tutto quanto parte. Ah, ok. Beh, intanto grazie dell'invito, del piacere appunto che mi date nel tornare ancora qui. Ovviamente io l'approfondimento eviterò, tra l'altro poi mi farebbe anche piacere se riusciamo a fare una chiacchierata a più voci, eviterò di parlare dettagliatamente di situazioni trentine perché non, come dire, preferisco che lo facciate voi. Posso dire, appunto, sicuramente questo è un luogo importante per la ritoria del decoro, e posso dire che effettivamente andando a vedere da quando comincia a imporsi, allora lì sarebbe interessante, per esempio ci sono alcune ricerche puntuali, per esempio ho in mente una realtà bolognese dove inizia negli anni 10 in maniera molto forte. In realtà appunto in maniera meno marcata ci sono già testi del 2005 dove il discorso del decoro viene chiamato tale, però appunto ha una caratterizzazione meno omnibus di quanto sia ora, anche se è un termine che comunque, a bovo, è un termine assolutamente generico e vuoto, lo ritengo appunto un contenitore vuoto e perciò un contenitore pericoloso, come tutti i contenitori vuoti che indicano, come dire, fatti sociali. Però ecco, la cosa in realtà molto interessante che ci aiuta, secondo me, è che dovrebbe aiutarci un po' a sprovincializzare questo dibattito e un po' anche a sottrarlo a questo uso mediatico che è quasi ridicolo, mediatico e politico che ha del ridicolo, dei tratti ridicoli. Infatti è molto forte la tentazione poi di fare un elenco dei provvedenti più ridicoli in nome del decoro, però in realtà siccome sono drammatici alla fine, anche se apparentemente sono ridicoli, bisogna evitare. Allora, dicevo che discorsi di questo tipo emergono in maniera molto chiara, molto analoga al decoro, per esempio, nei primi anni 90 negli Stati Uniti. C'è un famoso articolo di un mensile che esce nel 92, casualmente il mensile è edito da una fondazione, da un think tank di destra conservatrice statunitense, che lancia il tema della quality of urban life, quindi quello che noi chiamiamo decoro, in quasi tutti gli altri paesi è chiamato appunto qualità della vita urbana, qualità della vita semplicemente, da noi si è declinato col decoro. Quindi qui siamo nel 92 e io lo leggo in ogni caso come già quello un passaggio derivato dall'ideologia neoliberista, che è alla fine dei cosiddetti 30 gloriosi, quindi alla fine di quella fase, dal dopoguerra in poi, fino al 75, in cui all'espansione economica corrispondeva una forma abbastanza, sempre, sempre parzialissima, ma abbastanza significativa di redistribuzione della ricchezza, a quel punto, dopo il 75, prevale, emerge in maniera molto forte il pensiero neoliberista. E nel pensiero neoliberista questo fatto che noi oggi chiamiamo decoro, io lo vedo già presente. C'è un'immagine paradigmatica, tra l'altro di estrema attualità, visto il programma del governo, che non si sa se si costituirà o meno, però, il programma della parte che ha le idee forti di questa ipotetica maggioranza, cioè della Lega, che mette la flat tax al primo posto. Ecco, c'è un'immagine che si vede, che si trova ovunque in rete, di Ronald Reagan, che quando viene eletto e fa il suo primo discorso al Presidente nel 1981, indica una tabella e dice, noi faremo questa, la flat tax. Allora, in quella flat tax sono contenuti i due elementi centrali del neoliberismo che va imponendosi in quel momento, che è abbassare le tasse ai ricchi e strangolare lo Stato sociale. Da lì, io vedo che da lì, come dire, la strada è in discesa. Affermati questi due presupposti, è chiaro che quelle classi che non avranno più accesso a una piccola quota della ricchezza, sono classi che devono essere governati. E devono essere governati con la repressione, non più cercando nel consenso, con qualche piatto di lenticchia, ma esclusivamente con la repressione. Da lì si apre il baratro dello Stato securitario. E dallo Stato securitario, per cascata, arriviamo a questa cosa, che è la quality of urban life, e da noi al decoro. Questo, proprio dal punto di vista lineare, ideologico, sapendo che, appunto, ideologia è ciò che nasconde i rapporti di forze economici che ci sono. E dunque, se analizziamo ideologia in questo senso, è evidente. I rapporti economici sono quelli che ti dicono, basta spesa pubblica e più ricchezza lasciata ai benestanti, e l'ideologia è quella, appunto, che conduce allo Stato securitario, alla meritocrazia, alla teoria dello sgocciolamento, che, appunto, è una forma che assolutamente, già negli anni 90 veniva chiamata politico voodoo, quindi, appunto, quasi magico, un pensiero magico, secondo cui, se i ricchi saranno sempre più ricchi, ai poveri qualcosa giungerà. Ed è questi pensieri qui, abbassare i tassi ricchi, strangolare la stanza sociale, i ricchi sempre più ricchi, qualcosa sgocciolerà, il merito, quindi, il merito visto nel suo rovescio, ovviamente, è se sei povero vuol dire non meriti. Questo tipo di ideologie conducono fatalmente al decoro, e, al contrario, se volete la prova del 9, se prendete il decoro e lo spacchettate, dentro ci trovate precisamente questo, cioè ci trovate, appunto, che chi è povero è perché non si è dato da fare, e quindi non ha merito, che chi è povero e non sta ridotto non potrà prendere quella piccola gocciolina che cade, eccetera, eccetera. Quindi, possiamo romperci la testa sulla crisi dei partiti, però, se lo analizziamo in maniera un po' più materialistica, credo che siamo sull'onda lunga di quel trionfo del neoliberismo. Dunque, questo per quanto riguarda, diciamo, l'inizio, la politica anche internazionale, cioè andare a ritrovare questo tipo di tendenza in politiche, anche fiscali, già all'inizio degli anni Ottanta negli Stati Uniti. Come si intreccia, però, il nazionale collocale in questi campi. Cioè, questi tipi di tendenze diventano le direzioni della politica di uno Stato che poi, a cascata, naturalmente, può essere applicata anche nel locale e riguardare ancora più direttamente le vite di tutti noi. Noi abbiamo parlato prima di eserciti nelle strade, abbiamo parlato, ho citato prima, anche il divieto dell'emosina qua a Trento. Mi sono dimenticato di parlare delle telecamere, cioè Trento si avvia a diventare la città più sorvegliata da telecamere a livello italiano. Cioè, ci sono più telecamere per abitanti che il progetto previsto, che in nessun altro posto d'Italia. Una cosa che magari una parte della città che a Trento si sta toccando, ma per le sue dimensioni e per le ultime decisioni non è ancora stata, come dire, modificata in maniera così pregnante, è la stazione. Sappiamo che tu, per balzare direttamente nel modo di calare a livello locale d'altezza uomo di queste politiche, hai agilato tanto, hai fatto molto parlare di sé con commenti piuttosto indicibili sui social, eccetera, un tuo reportage sulla stazione di Milano e anche di Bologna. Chiaramente. Cosa hai trovato, cosa hai scoperto e di cosa è figlia la trasformazione in atto delle principali stazioni ferroviarie italiane? Sì, allora, permettimi di riprendere il discorso di prima. Dicevo come appunto un paradigma economico, quindi trionfo al neoliberismo, sviluppa le sue ideologie, no? Ovviamente, quando, come dire, si possono tranquillamente usare, una volta che queste ideologie si sono depositate nel discorso sociale, le puoi tranquillamente usare per poi rimetterle come benzina dentro un nuovo processo economico, perché comunque c'è una sorta di retroazione. Allora, quando tu, con tutto quel paradigma securitario alimentato artatamente con la paura del terrorismo, oltre che appunto il paradigma securitario già presente per motivi detti, in più ci aggiungi la paura del terrorismo anche quella gestita nel modo più allarmistico appunto possibile, riesce a rimettere, a usarlo di nuovo per rimettere un processo economico in piedi. E quello delle stazioni è interessante perché, un po' perché sui mezzi di trasporto si gioca buona parte di questa retorica del degrado che è fin dalla sua origine, quindi fin da quegli articoli degli anni 90, seminali, in alcuni articoli, in alcuni giornali statunitensi, ben mirati, fin da allora la problematica per esempio dell'illusione del biglietto diventa un tema centrale del degrado, l'illusione del biglietto ferroviario, l'illusione del biglietto della metro, perché appunto sono basati sull'indistinzione tra reati veri e comportamenti illicità di nessuna importanza, no? Per cui tu fai questo pacchetto, lo chiami degrado e in questo pacchetto tu hai delle figure tipiche che devi punire, che appunto sono figure che prima magari venivano leggermente sanzionate e invece devono diventare nemici pubblici, perché questa roba appunto funziona da collante, funziona tutte cose che appunto un po' per volta magari analizzeremo, ma perché è un tema prismatico, è incredibile dove ci può portare questo degrado. E dunque appunto lì è interessante perché appunto il discorso sul decoro delle stazioni si innesta perfettamente sul processo di privatizzazione delle stazioni, quindi qualcosa che è stato costruito con enormi investimenti pubblici, viene privatizzato, viene privatizzato in realtà appunto a iniziare anche lì dagli anni 90 in cui la privatizzazione tipica anni 90 è quella che lascia la cosiddetta golden share, quindi la maggioranza allo Stato e quindi ti dicono se uno avesse voglia, pazienza e una vita di riserva per andare a risentirsi i telegiornali di allora ti dicevano ma questa privatizzazione non vuol dire che non sarà più un servizio pubblico ma sarà per l'efficienza. In realtà quelle privatizzazioni degli anni 90 hanno voluto di, hanno posto i presupposti per poi svendere pezzi di patrimonio pubblico. Le stazioni sono tra questi, quindi appunto questo mio lavoro sulle stazioni ai miei occhi dimostrava molto chiaramente come lo scopo principale fosse appunto quello di spacchettare sempre di più dividere la stazione in pezzi economicamente valorizzabili e privatizzarne il più possibile. Ovviamente per fare di una stazione un centro commerciale è ovvio che devi tenere fuori tutto quel disagio sociale che in qualche modo lì si concentrava perché era un luogo di passaggio era un luogo dove chiedere le lemosina era un luogo quando c'erano ancora i treni di notte e le stazioni non erano più sicure perché appunto c'erano i treni di notte e quindi erano continuamente attraversate oltretutto questo paradosso però va tenuto sempre presente che è il luogo sicuro è il luogo attraversato non è il luogo telesorvegliato e quindi appunto si concentrava una certa quota di disagio sociale si rinuncia totalmente a qualsiasi discorso sul sulle causi della povertà per capirci e ci si concentra sulle sue conseguenze e le conseguenze sono le persone che devono essere fatte sparire siccome appunto la privatizzazione si è depositata nelle coscienze non esiste più questo con la perfetta complicità di tutto il mondo politico e di grandissima parte di quello mediatico non esiste più l'idea che essendo un luogo pubblico è un luogo anche di chi vive evidentemente in una condizione di marginalità sociale ma è un luogo che deve essere appunto gestito ottimamente da chi lo possiede e questo chi lo possiede e dai e dai a furia di giustificarlo con la maggiore efficienza è diventato un'azienda privata o lo è per decenni in cui ha attivato appunto un contratto con un pubblico che funziona ormai solo da erogatore di servizi privati quindi lì si capisce benissimo come non solo il degrado crei consenso politico il discorso sul degrado crei consenso politico e quindi crei un consenso politico che è necessariamente spostato all'estrema destra io ritengo il PD un partito di estrema destra sinceramente non di destra moderata dunque appunto un consenso che è di estrema destra e non solo crea quindi uno spostamento del blocco politico in quel senso ma crea anche la possibilità di farci dei soldi perché appunto in virtù di quello tu trasformi la stazione nel centro commerciale allontani i poveri dalla stazione e metti a valore il tuo immobile per farci dei negozi peraltro tutti standardizzati tutti uguali tutti in franchising quindi questa è appunto la seconda torsione quindi il neoliberismo crea il securitarismo il securitarismo dà delle opportunità fantastiche di business prima mi sono dimenticato tra i vari esempi locali anche perché anche se è un'altra provincia e qua si sa che tra provincia autonome ci si sente strani è un motivo in più per sentirsi strani Bolzano è un altro esempio di luogo in cui di città in cui le politiche securitarie e gentrificanti stanno spopolando mentre parlavi di treni mi viene in mente come dei biglietti e dell'importanza di avere il biglietto a Bolzano vengono premiati coloro che segnalano all'autista al controllore le persone che salgono senza biglietto comunque vengono premiate economicamente giusto per favorire un quieto vivere nelle comunità nelle cosiddette comunità ma voglio riprendere questa discussione che ha avuto al telefono una giornalista che ci ha fatto ritardare ulteriormente va bene tutte queste chiacchiere io adesso faccio l'avvocato del diavolo però poi le persone non si sentono sicure nei quartieri le persone dicono che c'è lo spazio le persone dicono che c'è i comitati di quartiere dicono che c'è la criminalità cosa si fa nel senso quando in che modo può essere trattata l'argomento sicurezza in una prospettiva che non sia di destra estrema destra non sia in fin dei conti repressiva Tamar Pitch nel suo contro il decoro del 2013 dice di recente si è detto che la sicurezza non è né di destra né di sinistra io penso al contrario che non sia possibile sottrarre campo semantico evocato dal termine sicurezza intesa come diminuzione del rischio di vittimizzazione da criminalità comune a retoriche e politiche di destra ossia tendenzialmente escludenti repressive fondate e legittimate sulla paura mi pare che ciò che è successo negli ultimi vent'anni soprattutto negli ultimi dieci lo confermi in nome della sicurezza si sono varate a livello nazionale leggi sempre più dure e repressive in primo luogo nei confronti dell'immigrazione ma come si è visto anche nei confronti dei drogati e così via messo tra virgolette drogati che hanno portato le nostre carceri a scoppiare più in generale puntare sulla sicurezza ha voluto dire non solo legittimare ma fomentare la paura e utilizzarla in funzione di consenso qual è il tuo punto di vista sul termine della sicurezza primo e secondo non voglio farti commentare vicende locali localissime che non conosci ma chiederti se ti sei imbattuto ancora nel ruolo dei comitati di quartiere che sulla carta potrebbero essere delle libere associazioni dei cittadini volte a far vivere il quartiere attraverso la condivisione attraverso la socialità il non sentirsi soli in città ma sentirsi parte di qualcosa di più grande e ampio l'andare oltre se stesso ma in realtà nella sua applicazione pratica quando si sente parlare dei comitati di quartiere sempre più spesso si cela dietro una sorta di piccolo gruppo di cittadini che di persone che vogliono che si scagliano contro altri solo perché non vogliono vedersi davanti persone povere persone che dormono sulle panchine persone che hanno disagio persone con la pelle diversa perciò ti chiedo questo sulla sicurezza sui cosiddetti comitati di quartiere e del loro ruolo nella società no oddio è difficile su comitati di quartiere allora sono comitato di quartiere una bella espressione che mi chiedo cosa cosa significhi no fa un po' fa un po' il paio con la cosiddetta destaticalizzazione che riguarda tutti i crimini o presunti tali no quando leggete un articolo sul decoro non dice mai o sul degrado non dice mai sono stati commessi tot crimini rispetto all'anno scorso sono aumentati sono diminuiti non c'è mai questo la destaticalizzazione è un fondamento di quello che viene chiamato anche il populismo penale quindi insomma è qualcosa che cerca modalità narrative per governare attraverso la paura del crimine il comitato di quartiere allo stesso modo come dire abbiamo si sostituisce e si rende visibile un gruppo di cittadini che non abbiamo la minima idea di poi cosa rappresentano effettivamente però comunque comunque lo si chiami social street comitato di quartiere io sono molto convinto non voglio neanche stigmatizzare la persona che si spaventa o che è spaventata la paura tra l'altro è un sentimento ci vorrebbero veramente psicologi sociali che credo che sia una professione che adesso attiene solo al marketing ma in realtà avremo bisogno di psicologi sociali che cerchino di capirci qualcosa in questo nella diffusione della paura in questa fase politica e sociale nostra però io non voglio stigmatizzare le persone che hanno paura però ho la grandissima sensazione forse la certezza che tutta questa operazione sia un'operazione che è calata dall'alto è come dire il sistema politico e mediatico che ha fomentato le paure c'è un passaggio ci sono alcuni passaggi interessanti in quel libro di Tamar Pitch che sono anche una sorta di assunzione di responsabilità e di confessione qualche modo di errori passati Tamar Pitch ha fatto parte del gruppo di Pavarini dei criminologi che ruotavano attorno a Bologna fino all'anno 90 inizio anni zero che avevano che hanno articolato questo progetto Città Sicure allora io mi sono letto alcuni dei loro documenti Tamar Pitch infatti fa una forte autocritica su questi passaggi mi sono letto alcuni dei loro documenti soprattutto di Pavarini del 2005 che era consulente di Cofferatti sono documenti in cui c'è una formazione o come dire anche un modo di procedere argomentativo che appartiene un pochino a una tradizione che può essere quella del PC ancora l'articolazione però è non è difficile passare dallo stalinismo al neoliberismo l'abbiamo visto mille volte e comunque il contenuto è securiparismo spinto di matrice anche quella appunto di importazione perfetta da quelli pensati nei pensatoi statunitensi che hanno appunto spinto e consigliato Reagan in questi passaggi passati attraverso la Gran Bretagna e assunti immediatamente in Francia e Germania dalla sinistra la sinistra ha assunto totalmente questo paradigma securitario ed era marcio da subito perché appunto andando a vedere questi testi che sono quelli italiani ma anche leggendo quelli britannici che sono ancora più remoti e sono del 97 98 99 2000 è chiaro da subito che si fa un mischione improponibile tra cause del disagio conseguenze del disagio crimini e fastidi l'idea che tra crimine e fastido ci sia una continuità è un'idea disgustosa e che non può essere articolata in nessun modo a sinistra e appunto se si vanno a leggere questi testi dei promotori di Pavarini e degli altri promotori del pronuncetto Città Sicure voluto dal PDS o dal ex PC Emiliano è già tutto lì questa indistinzione l'altro tema spaventoso di cui io credo i comitati cittadini e i cittadini sono vittime sono vittime l'altro tema orribile è quello della percezione di sicurezza allora già allora sempre in questi testi seminali della sinistra tra mille virgolette che inizia a occuparsi di sicurezza c'è già insistita questa idea della percezione dell'insicurezza che non vuol dire nulla perché io se io percepisco che Sergio mi sta sulle palle è un sentimento mio non è fondato su nulla di concreto a parte alcune cose che sappiamo io e lui però se io faccio della teoria sociale che questa è gente che ha fatto teoria sociale e ha fatto i consulenti per gli politici e ha fatto i consulenti per i sindaci e sappiamo bene che come nel passaggio anni zero anni dieci quelli che hanno costruito il regime politico che viviamo oggi sono stati i sindaci e su quelli che è campata la cosiddetta mille virgolette sinistra sui sindaci e qui e questi che hanno fatto teoria sociale per i sindaci hanno detto e ripetuto questa assurdità sulla percezione sociale sulla percezione dell'insicurezza vi faccio un esempio 82 1982 esce l'articolo che riprende fondativo lo riprende già un riciclaggio però insomma è considerato fondativo della teoria della finestra rotta che è quella che dice che se c'è una finestra rotta in un quartiere prima o poi ci saranno un sacco di macelli e omicidi perché dà l'idea del disordine questo articolo qui inizia dicendo io tizio Caio sociologo quello che era ho fatto un lavoro per il New Jersey per lo stato del New Jersey sulla sicurezza in città impostandolo su questo asse qui cioè se c'è disordine ci sarà crimine i dati alla fine del mio lavoro dicono che non è vero che era proprio sbagliato il nostro presupposto non è vero che il disordine porta necessariamente a più crimine però la gente è più sicura la gente è più contenta legacy la gente vota il candidato che mi ha fatto fare quel lavoro questa roba qui è intrisa di propaganda politica sulla pelle degli ultimi ovviamente che saranno le vittime perché chi vive nei quartieri disordinati se non gli ultimi ma anche sulla pelle di quelli a cui viene calata dall'alto un'ideologia che li imbruttisce che li imbarbarisce che non gli consente più di distinguere una persona che chiede l'elmosina da un criminale che ti accoltella per fare un esempio oppure che pensa che la criminalità sia quella che vede lì in strada mentre magari nel palazzo di fianco l'andrangheta si sta comprando tutto per dire voglio dire anche la scelta di cos'è criminalità è significativa e quindi direi che appunto eviterei di prendermi con i comitati cittadini ma soprattutto gli direi non voi credete di aver vissuto questo vostro quartiere di aver trovato queste robe impensabili intollerabili nel vostro quartiere leggetevi due o tre robe che sono 30 anni che le ripetono uguali a quelle che dite voi e quindi fatevi venire un po' di dubbi sull'originalità del vostro pensiero e sull'unicità e straordinario degrado del vostro quartiere grazie Wolf chiaramente ti ho imbeccato sui comitati di quartiere per il pericolo di alcune derive e della strumentalizzazione in cui sono sottoposti non chiaramente sul fatto sulla una presupposta una supposta negatività della loro esistenza tutt'altro sono grandi possibilità di socialità e di far vivere davvero una città e farla prendere coscienza di un ruolo e di una e di far nascere possibili germogli di vera comunità però il pericolo è questo sta appunto leggendo la mozione che è stata presentata da parte di due politici due consiglieri comunali uno della Lega e l'altro del PD Brugnara e Festini Brosa sulla base di incontri con le persone che vivono in un certo quartiere si riporta è stato evidenziato che nel quartiere viene elevata concentrazione di negozi etnici di alimentari e di generi vari che favorisce l'effetto ghetto sarebbe da favorire una diversificazione dell'offerta commerciale questa visto che sei qua a quanto fa non riusciamo mai a non parlare anche di cibo quando ci sei tu questa dei negozi etnici è un refrain che torna spesso a me dà l'impressione dopo aver letto quanto è successo a Bologna che magari mi piacerebbe che tu lo riportassi visto che vivi là e te ne sei occupato ma non solo sembra che i negozi etnici siano diventati un incubo per le amministrazioni comunali sembra che questi benedetti negozi che vendono piccoli negozi che assomigliano ai negozi che c'erano dico c'erano perché ormai nei paesi spesso neanche proprio c'è un negozio qua da noi o se c'è è un negozio un supermercato della grande distribuzione i negozi che c'erano una volta che avevano offerta quanto più variegata avevano avevano anche carni avevano anche un angolo macelleria eccetera negozi che hanno un'offerta che esula dalle classiche offerte dei centri cittadini che sono fatti per lo più da un ripetersi di banco matte franchising di intimo oppure i più recenti di panini gourmet di pizze gourmet che viene aggiunto a qualsiasi cibo pur di aumentarne il prezzo naturalmente a chi è che danno fastidio questi negozi etnici e perché si vuole intervenire si vogliono in sostanza chiudere perché quando si parla di diversificazione dell'offerta commerciale si vogliono chiudere determinati negozi per aprirne di altri cosa si vuole chiudere cosa si vuole aprire e perché c'è questa direzione voglio segnalare che proprio oggi sul giornale c'erano alcuni consiglieri che tiravano in campo motivi sanitari un inasprimento dei controlli sanitari ai negozi etnici di un quartiere di Trento perché sicuramente qualcosa di male fanno guarda aggiungerei un elemento alle considerazioni già fatte cioè quel processo che appunto io vedo iniziare col trionfo del neoliberismo e che produce le sue ideologie si interseca anche con la necessità del capitale di gettarsi nella valorizzazione della città evidentemente nonostante gli sviluppi tecnologici c'è un sacco ci sono un sacco di soldi inutilizzati e le città sono diventate un punto di grande interesse di acquisti ci sono appunto articoli che fanno il punto ce n'è uno fondamentale di Saskia Sassen del 2015 sul Guardian che è sentito a chi appartengono le città che fa il punto sugli acquisti sempre più grossi da parte di aziende e finanziarie soprattutto di spazi immobili nelle grandi città nelle cosiddette città globali quindi si interseca questa vicenda qui in Italia si interseca con la ritorica del turismo che è appunto un'altra parola vuota che appunto è svuotata di un significato concreto ma è una sorta di mantra che si ripete nella speranza che questo generi chissà quale ripresa economica che è un'altra parola anche questa vuota perché a me della ripresa non me ne frega niente a me interessa come è distribuita la ricchezza perché ci può essere tutta la ripresa del mondo e una quota sempre maggiore di persone può stare peggio per cui anche quello è un concetto che andrebbe appunto ricollocato al suo posto ricordiamo scusa non ti interrompo anche il ruolo di airbnb in alcune città nel processo di gentrificazione nel rendere sempre più il centro delle città un castello disabitato sostanzialmente allora questi processi qui consentono per esempio sono in corso un sacco nelle città che non hanno vincoli storici sono in corso un sacco di abbattimenti e ricostruzioni con cubature molto più gonfiate ed edifici molto più alti e proprietà sempre più indivise quindi c'è una fase di esproprio nelle città ancora il mondo anglosassone è più avanti in particolare negli Stati Uniti e lì come dire i due movimenti coincidono crisi dei mutui subprime che ha portato una quantità impressionante di espropri quindi di banche che si sono ripresi gli immobili di chi non poteva pagare il mutuo si accompagna d'altra parte appunto enormi acquisti megaprogetti ed enormi acquisti da parte finanziaria di pezzi di città quindi ci sono come dire le mani del capitale privato del grandissimo capitale privato si stanno stendendo in maniera molto significativa le sue città anche quella è andrangheta comunque non dimentichiamolo mai che è la stessa cosa è un grande capitale privato e dunque nelle città con questa retorica del turismo la questione del cibo diventa fondamentale in tutto il mondo non solo qui da noi dove si mangia benissimo da nessuna parte del mondo si mangia come in Italia non si sa come siano sopravvissuti tutti gli altri però insomma non solo qui da noi ma in tutto il mondo la retorica sul cibo è una retorica che funziona nella gentrificazione nei quartieri perché comunque ti appunto ti fa vivere la strada in un modo diverso in un modo in cui spendi di più soldi e consente come dire una personazione soft perché appunto inizia da la gentrificazione commerciale comincia a cambiare un pochino il panorama e mano a mano crescono gli affitti degli immobili e dunque si arrivano a una gentrificazione sempre più spinta i negozi che adesso chiamiamo etnici dopo peraltro solo due decenni da quando ci siamo provati a dire e a spiegare a un livello abbastanza diffuso che la parola etnica era forse una parola un po' che sarebbe stato il caso di abbandonare perché appunto non ci sono questi confini genetici così marcati se ne parlò molto nei tempi della guerra di Mexicoslave ma è tutto dimenticato siamo tornati all'etnicismo il passaggio del razzismo culturale che è stato il segno dei primi anni dieci per cui io non sono razzista ed è una questione culturale se loro non si adeguano secondo me ormai è superato è superato anche questo a destra e torniamo a un bel sano razzismo biologico e così parliamo tranquillamente di etnia e appunto parleremo tra poco di proprio delle belle razze superiori e inferiori e il negozio etnico cioè l'alimentare gestito da persone del Bangladesh o del Pakistan è stato in realtà molto apprezzato se andiamo indietro solo di dieci anni e per cui quando c'era un clima meno polarizzato meno leghista e meno fascistoide si diceva ma sì dai ridanno vita a quelle botteghe che i nostri non gestiscono più perché ci guadagniamo troppo poco cosa è successo perché questo cambiamento io anche lì ci vedo un segno economico un cambiamento economico cioè che quella fase era quella di inizio anni zero in cui ancora pompavano pompavano la grande gli ipermercati e quindi le catene della grande distribuzione preferivano aprire fuori città degli ipermercati e abbandonare il centro in questo centro in questo centro che veniva abbandonato faceva comodo anche il piccolo negozietto da cui la vecchietta poteva andare a fare la spesa gestito da Pachi e adesso le grandi catene hanno capito che tutto quell'enorme mercato frazionato ma enorme nel suo complesso dei centri cittadini andava ricolonizzato e io non so qui ma nelle città un po' più grandi sono tornati tutti alla grande PAM Carrefour COOP tutti hanno ricolonizzato il centro a Bologna qualcuno ha contatto nel centro di Bologna un luogo dove si mangia o si vende cibo ogni 25 abitanti quella appunto è una città del cibo cosiddetta però è chiaro che c'è un grande ritorno allora a questo punto va scaricato il negozietto cosiddetto che adesso chiamiamo etnico che è appunto l'alimentare gestito dal pakistano in più c'è un altro segno sempre di classe molto violento su questa vicenda che è quella che a causa dell'aumento oggettivo dell'andarsi a bere qualcosa in compagnia oggettivo molte persone soprattutto giovani si trovano a bere le birre comprate in questi negozietti allora colpire il negozietto significa colpire l'altra categoria che le ordinanze del decoro devono sempre colpire che sono giovani perché vanno appunto rieducati a un consumo decoroso e se non possono permetterselo devono stare fuori dal centro quindi due piccioni con una fava situazione che ho vissuto non più di un mese fa a Firenze disgustosa ma Firenze col sindaco che ha avuto è molto avanti su questi temi in cui tu alle due di notte potevi tranquillamente stare in strada col bicchierino di vino molto elegante comprato all'osteria ma dalle 21 il signore pakistano che gestiva l'alimentare non poteva più vendere alcolici quindi c'era questo paradigma a Bologna è un po' più coperta questa cosa perché non si può stare fuori dai Deor con i bicchieri in mano invece a Firenze tu puoi stare anche in strada col tuo bicchiere purché sia quello che costa molto perché la birra comprata dall'alimentare invece non la può vendere dalle ore 21 quindi il segno di classe di questa cosa è così evidente che mi sembra che sia inutile girarci intorno dunque io sarei aperto lo ribadisco a interventi delle persone che sono qua con noi oggi perché visto che ci siamo trovati in due il dibattito può stentare invece se ci sono contributi di qualsiasi segno chiaramente da parte di voi ci piacerebbe molto così possiamo arricchire ulteriormente Stefano sale direttamente sul palco no adesso qualcuno è una caramella per me richiesta caramelle sul palco per favore possibilmente non lanciatele sì è una riflessione alla domanda al tempo stesso innanzitutto grazie perché il quadro è molto chiaro e anche pur essendo un tema molto complesso sei riuscito in qualche modo a dare degli elementi semplici e molto chiari riconducendo poi ai dati materiali che sono credo quelli che poi ci interessano di più parto un attimo dalla riflessione del tema del festival di questa edizione la quinta dell'oltreconomia che è comunità in movimento paradossalmente chiaramente quando noi parliamo di comunità in movimento abbiamo un'idea nostra di cos'è la comunità in movimento e proveremo a esplicitarla in queste giornate però paradossalmente quando ne parlavamo con Sergio rispetto a questo dibattito anche queste comunità questi comitati di quartiere essenzialmente si ricompattano si ricompattano su l'esclusione della diversità sull'emarginazione del più povero su tutto ciò che va nascosto ma in qualche modo va spostato più che nascosto va spostato nell'altro quartiere cioè qua il problema è essenzialmente che soprattutto per quanto riguarda Trento i comitati di quartiere che si muovono nel centro cittadino l'idea di fondo è quella che devono essere spostati in quelle periferie o negli altri quartieri di Trento e questo meccanismo paradossale di ricomposizione della comunità lo vediamo magari anche nei piccoli paesini quindi non lo viviamo solamente in quelle che sono le città globalizzate oppure le città di provincia come Trento ma nei paesini nel quale sorgono i comitati contro magari l'accoglienza dei richiedenti asilo nel quale appunto non c'è una vera comunità compatta o perlomeno non è una comunità solidale non è una comunità che prova anche a in periodi difficili come questi a farsi forza a vicenda ma si ricompatta quando arrivano come dire otto profughi quindi e si riempiono le sale si riempiono le sale su questa percezione della paura su questa percezione dell'invasione e tu hai ben spiegato come essenzialmente cioè è una perforazione che arriva dall'alto cioè da decenni che in varie forme con un'accelerazione negli ultimi anni ha comunque impattato sulle comunità il punto forse e qua arriva un po' la domanda è come riusciamo a poi entrare dentro questi meccanismi come riusciamo da una parte utilizzando anche un linguaggio quello della sicurezza a cambiarne i connotati a costruire altre narrazioni come riusciamo anche a mettere in campo comunità che effettivamente sono comunità solidali aperte accogliente nel quale ci sia un modo diverso di stare assieme di costruire la politica odierna e come però produciamo anche meccanismi di conflitto perché tu dici è vero da una parte queste comunità di quartiere cioè questi cittadini evidentemente hanno anche magari alcune come dire buone intenzioni o come dire non hanno coscienza di quello che sta avvenendo e quindi ripetono questi mantra però cioè dobbiamo anche come dire attrezzarci per esigere che questo tipo di meccanismi non diventino ancora più maggioritari di quello che sono cioè e quindi è qua il lavoro cioè da una parte come costruiamo comunità effettivamente alternative che riescano a rompere questo meccanismo e dall'altra però come siamo anche in grado di rispondere a questi comitati di quartiere io credo che cioè qua a Trento viviamo una situazione nella quale se andiamo a vedere le ultime ordinanze gli ultimi divietti inanellati uno con l'altro cioè sembra il programma elettorale di Gentilini fatto poi da in realtà un'amministrazione di centrosinistra e inoltre cioè gli elementi ancora più contraddittori è che magari quegli stessi consiglieri comunali che poi sono attivi nei gruppi d'acquisto solidali eccetera sono quei consiglieri comunali che poi assieme alla Lega promuovono queste ordinanze contro i negozi etnici quindi un po' questa domanda è ampia però giusto per concludere anche un po' questo discorso ovviamente io credo che la risposta a questo tipo di domande ce l'ha molto più di me chi vive poi appunto nei quartieri chi cerca di costruire una socialità diversa molto più di io che osservo magari leggendo dei facendo dei pezzi dei collage di pezzi di giornale che un po' abbrevidiscono diciamo che secondo me è da tenere molto presente il negativo non ho una ricetta positiva è negativo è molto da tenere presente quello a cui accennavo prima cioè il tentativo diciamo di osservare il discorso securitario e declinarlo da sinistra che è stato fatto dal PDS poi PD a cavallo tra anni 90 e anni 0 che è appunto un discorso totalmente subalterno cioè quindi che ha accettato allora il ritorno su questi documenti firmati pavarini commissionati e conferati in cui il paradigma era siccome lo Stato ha meno soldi allora non possiamo risolvere la questione con il welfare ecco per esempio se tu accetti questo come paradigma allora è inutile che ci parliamo cioè se tu accetti che la politica non abbia a che fare col fatto di dire lo Stato deve avere soldi per fare welfare perché è la sua funzione principale essenzialmente ecco se tu rinunci appunto a questo passaggio qui non vai da nessuna parte e puoi solo cercare di rideclinare degrado o decoro in un altro modo un'altra cosa per esempio che sconsiglierei è appunto quella di usare le parole cioè di cercare di riciclarsi degrado o decoro in senso più umanamente tollerabile io credo che sia si possa affrontare il rischio di spiegare che sono appunto parole vuote come tutte le parole vuote le possiede il più forte le declina il più forte nella maniera più semplicistica possibile e vengono usate appunto come corpo contundente con chi è l'escluso di quel momento con chi è fuori da quel tipo di dinamica quindi per esempio io eviterei è una cosa su cui mi sono confrontato anche con altre persone eviterei di provare a rideclinare degrado in un altro modo poi possiamo dirlo scherzando tipo il degrado il degrado è questo mondo politico che parla di degrado sono d'accordo rimaniamo a livello di scherzo però quando facciamo poi le cose seriamente secondo me dobbiamo dire smettiamo di parlare di degrado ci sono problemi di criminalità allora parliamo di queste cose qui c'è spaccio allora chiediamo un intervento puntuale sullo spaccio c'è spaccio e c'è uno che ha fatto pipili nell'angolo sono due cose diverse allora vi interessa quello oppure forse è più serio concentrarci su un problema reale che ti fa sentire davvero insicuro che ti rende davvero insicuro perché appunto c'è una fraida per spaccio in corso quello è un discorso e quindi provare a riportare le cose a una dimensione che abbia una sensatezza e provare a riportare le questioni della sicurezza alla reale incolumità delle persone e non a queste percezioni che poi è ovvio che se ti capita di accedere canale 5 ti senti insicuro è ovvio poggia poggia allora riprendo a proposito della parola del grado del coro nella nostra nel nostro modo di parlare mi viene in mente che forse perché sono reduce da varie visite ad appartamenti perché cercavo un posto dove stare cercavo un posto dove andare a vivere e viste le nostre possibilità economiche ci veniva da dire ma guarda questo ci dai è un appartamento decoroso è una casa sì è decorosa eccetera e la riflessione che veniva fatta su uno dei libri che parlano appunto di questi temi è che una bella casa grande una villa non sarà mai decorosa nessuno mai definirebbe un posto per ricchi decoroso il posto decoroso è il posto per le persone come dire una cosiddetta middle class la working class che ci deve in qualche modo accontentare cerchiamo di accontentarci sì è decoroso questo posto perciò la rincorsa di queste terminologie declinate secondo la prospettiva che non sia discriminatoria repressiva rende impossibile veramente una tinteggiata di colore per farle sembrare migliori e noi che ne siamo immersi che ne siamo schiavi finiamo per usare queste stesse parole e finiamo anche noi per parlare di lamentarci del degrado ci sono e questo è la conseguenza del fatto che ci mancano proprio le parole a volte oltre le parole per descrivere i pensieri stessi con cui inquadrare gli strumenti retorici per inquadrare questi tipi di eventi che ci stanno capitando attorno volevo interrogarti Wolf sul prego se riesco provo a parlare più bassa voce allora su sulle parole è interessante io credo che Decoro andrebbe analizzata uno da un punto di vista della riflessione che fa Furio Iesi sulle idee senza parole quindi idee in cui non c'è un contenuto dichiarato non c'è un contenuto razionale ma che fanno appello a una mobilitazione a idee necessariamente di destra degrado è una parola di questo tipo cioè è un'idea che non viene articolata come patria come nazione come ordine sono parole che non hanno necessità di essere declinate perché tu sai istintivamente cosa vuol dire e in questo istintivo c'è una necessaria deriva di destra perché appunto rinuncia a capire distinguere discriminare in senso buono discriminare il grano dall'olio e degrado è questo per esempio ho notato che nell'ultima torsione gli ultimissimi articoli giornali il politico dice degrado e nessuno si preoccupa più neanche di chiedergli a cosa si riferisca questo assessore vannucci allo sport di Firenze gli hanno dato fastidio i podisti in pantaloncini che mangiavano i loro panini e ha detto degrado e nessuno ha detto ma cosa stavano facendo questi no i giornali hanno ripetuto il rischio degrado per la corsa podistica e i 100 km del passatore nessuno gli ha chiesto cosa volesse dire questo significa che è diventata un'idea senza parole come patria nessuno ti chiede perché ame la patria no la patria si ama e basta il decoro si ama e basta da un lato dall'altro decoro attiene sempre parlando delle parole decoro attiene all'estetica e quindi noi se diventa di fatto il centro del discorso politico perché a livello cittadino delle città è il centro del discorso politico siamo in una fase di nuovo di estetizzazione della politica che è quella appunto che in cui Benjamin riconosceva l'emergere del nazismo estetizzazione della politica a cui si deve rispondere con lui diceva con una politicizzazione dell'arte noi dobbiamo dire con un ripoliticizzare i concetti di appunto convivenza cittadina se ci sono ulteriori domande siamo ok c'è Andrea in prima fila aspetta che avvicinati grazie mi sono preso un po' di appunti perché tendo a dimenticarmi a metà del discorso di cui stavo parlando mi sono interessato a una questione locale che è stata di grande importanza per la città di Trento in generale per tutta la provincia e volevo collegarmici proprio pensando alla questione che è stata trattata della riduzione del pubblico e dell'espansione del privato sia in senso economico ma anche in senso ideologico e psicologico e l'espansione quindi anche del concetto di individualità neoliberalizzata di persone che attraverso queste modalità di gestione del potere di gestione dei corpi delle persone mi riferisco ovviamente a Foucault come hanno ridotto la vita sociale a una continua contrattualizzazione con modificazione mercificazione tutte le relazioni sociali sia a livello diciamo pubblico che a livello di relazioni interpersonali e come la questione dell'individualizzazione dell'individuazione di categorie e spazi soprattutto categorizzati come insicuri tra cui c'è la questione dell'etnicizzazione e dell'altro che deve essere alienato che deve essere sempre circoscritto come qualcosa di estraneo a una comunità particolare e come appunto questa individuazione di categorie e spazi considerati come altri aprono la strada a un revancismo interessato di interessi finanziari che hanno come obiettivo l'appropriazione del bene comune oltre che pubblico proprio di ciò che interessa la comunità diciamo semplificando però non soltanto mi viene in mente la questione dell'etnicizzazione dell'altro eccetera ma anche come le classi popolari sono state trasformate da gruppi e masse lavoratrici che categorizzate da un certo tipo di rapporto con il capitale in quelle che sono state definite variamente come le classi pericolose le classi dangerose insomma che che sono da 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 riqualificare da rimettere in da trasformare appunto tramite quelle politiche neoliberalizzate ecco dopo tutto questo discorso confuso volevo appunto riferirmi al quartiere delle albere a Trento che si collega con la questione appunto delle classi rese rese classi pericolose tra virgolette mi ha fatto venire in mente in particolare questo collegamento al fatto che nel quartiere delle albere c'è una via una piazza non mi ricordo che si chiama la piazza del lavoro la via del lavoro nel quartiere delle albere piccolo escursus c'era tempo fa una grande fabbrica la Michelin e tutto una serie di proprietà collegate che si occupavano della gestione della fabbrica insomma tutte le attività che si riferivano a questa e insomma è rimasto in questo quartiere di lavoro non è rimasto niente non è rimasto nulla le piazze che ci sono lì non sono piazze c'è un parchetto c'è 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 delle vie ci sono degli alberelli ci sono delle cose gestite dai piccoli alberelli di Natale che vengono fuori ogni tanto quando emergono i mercatini in questa città gestiti e curati dall'ITAS che è un'agenzia di assicurazioni e ecco quello che volevo dire era per insomma uno spunto forse in più della questione era come diciamo le questo processo di 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 ristrutturazione delle classi popolari tra cui vengono inseriti anche i migranti hanno portato a una continua e sempre più forte tendenza del capitale soprattutto finanziario a appropriarsi di questi beni comuni e appropriarsi di spazio in questo in questo quartiere per esempio è stato completamente prodotto attraverso politiche finanziarie basate sull'estrattivismo da 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 affittuario insomma cioè i privati che hanno costruito questo intero quartiere che è stata un'operazione enorme per il Trentino quantomeno adesso si ritrovano ad avere la proprietà di un intero quartiere dove non c'è niente ancora e ecco niente io volevo fare con questo discorso un po' confuso aggiungere questo tema in particolare per spiegare meglio a chi magari non conosce le albere nel quartiere che è sorto nell'area ex Michelin dove sorgeva questa dove una volta c'era questa fabbrica dove lavoravano moltissime persone di Trento e non solo è stata rasa al suolo è stata privatizzata hanno costruito un quartiere in cui i cui costi previsti degli appartamenti si aggirano dai 3 ai 5 mila euro al metro quadro comunque 3 in realtà no 4 dai 4 ai 5 mila euro adesso tutto si è ridimensionato potremmo definirlo un tentativo al momento fallito di gentrificazione in qualche modo ma mi veniva in mente rispetto a quello che diceva Andrea che nella nella sociologia al servizio del neoliberismo è spesso declinata vicino al blairismo insomma britannica la questione dell'underclass quindi della cosiddetta sottoclasse è legata proprio all'eliminazione del stato sociale nel senso che dice la sottoclasse emerge o meglio mi sono spiegato male è legata alla necessità di eliminare lo stato sociale perché si dice la sottoclasse emerge laddove i benefit dello stato sociale creano generazioni di fannulloni allora è chiaro che appunto tutta questa retorica securitaria è legata alla necessità di come dire da un lato mettere al lavoro quelli che non avranno più i benefit quelli che ci riescono e dall'altro gestire in maniera securitaria quelli che non ce la fanno e quindi non saranno messi al lavoro e non saranno neppure come dire non sono più fannulloni volontari ma sono a quel punto scarti della società tutta questa è innervata di queste vicende e tutte le vicende di appropriazione degli spazi pubblici dei beni pubblici da parte del privato sono a loro volta legate col dogma del fatto che lo stato non deve spendere per esempio si inizia con le piazze per esempio sono un caso abbastanza significativo la gestione delle piazze nella mia città per esempio a Bologna c'è una piazza che è stata di fatto appaltata alle banche che ci si affacciano oppure a Bolzano una vicenda che ho incrociato poco tempo fa un'opera d'arte viene messa davanti alla Raiffeisen di via Laurin e a quel punto la Raiffeisen avendo messo un'opera d'arte si sente in diritto di dire che il comune deve sbattere via dei chioschi di che babbari quindi torniamo alla questione del cibo ma torniamo alla possibilità di usare il degrado e la retorga del decoro per affermare appunto la presa di possesso del capitale privato sugli spazi comuni della città la sua volontà di normare la vita della città dopodiché appunto di nuovo le stazioni sono assolutamente paradigmatiche perché la stazione così come il centro commerciale diventa un luogo della stazione come fosse Milano Roma Firenze e presto tante altre in cui puoi entrare solo se hai biglietto o meglio puoi entrare fino a un certo punto se fai shopping e da un certo punto in poi se hai biglietto è il modello della città in cui puoi circolare solo se hai la capacità di spesa perché in fondo se poi lo vediamo alla fine come dire sfrondando la retorica le stupidaggini i politici squallidi i media che ci vanno dietro sfrondando tutto quello che ti dice il daspo urbano e quello che ti dicono tutti questi provvedimenti contro l'elemosia è che tu nella città ci stai nella parte quanto meno vetrinizzata della città ci stai se hai capacità di spesa cioè sfrondando tutto rimane questo e qual è quel luogo dove tu vai solo se hai capacità di spesa un centro commerciale quindi è chiaro che il modello del centro commerciale diventa il modello della città e non a caso probabilmente senza neppure rendersene conto i dirigenti delle varie confe esercenti eccetera eccetera spesso almeno ripeto nella mia città ma sicuramente in tante altre usano l'immagine del centro commerciale a cielo aperto per parlare della propria città e sempre non a caso da diversi decenni si parla di aziende Italia quindi l'intero paese è aziendalizzato e le città sono dei grandi centri commerciali a cielo aperto mi sembra che sfrondando tutto rimane questo prego ma perché si parla di decoro però qui c'è un progetto di riqualificazione importante qui al Parco Santa Chiara lo sapete ho letto un articolo qui sul Trentino che parla dice il Parco Santa Chiara spazio che collega varie attività vedrà interventi per più piante io non so che vuol dire questo forse mi date una risposta voi nuovi accessi sul lato est con nuove rampe scale si parla di questo parco qua tra cui quest'anno forse il prossimo anno non lo faremo qui oltre che una festa lo faremo in un altro parco probabilmente perché ci sono dei lavori di riqualificazione previste le panchine intelligenti che forniranno informazioni attraverso cui dialogare con le amministrazioni è importante secondo me è importante perché uno si mette in una panchina costo tra i 6.000 e i 7.000 euro a panchina perché uno si mette lì nonché vasche d'acqua che avranno la funzione di raccolta di filtro e riuso di quelle piovane il costo è di 1.200.000 euro il progetto è definitivo sì avevo sentito anch'io di questo progetto non lo sapevo nello specifico posso immaginare che le panchine intelligenti sono delle panchine dove non puoi sdraiarti non puoi non puoi stare non puoi dormire chiaramente a maggior ragione ci stanno al massimo due persone e sei interconnesso e magari probabilmente anche filmato posso immaginare che queste siano le panchine intelligenti non sapevo che fossimo proprio in un luogo in cui l'anno prossimo potrebbe non svolgersi più questo festival non so se volevi dire qualcosa commento una cosa già vista effettivamente questa no se facciamo l'elenco appunto dello squallore umano che emerge da tutti questi provvedimenti e tutti questi progetti ovviamente tutti presentati molto patinati su cui tra l'altro si gettano montagne i soldi pubblici poi abbiamo detto il neoliberismo ridurre però in realtà poi produce spesa perché appunto al servizio della valorizzazione capitalistica della città produce un sacco di spesa che viene sottratta ai servizi sociali veri quindi questo non va mai dimenticato però appunto se facciamo questo elenco io credo che potremmo arrivare in uno stato di depressione quasi intollerabile proviamo a capire appunto a capire cosa c'è oltre e qual è il non detto qual è appunto la creazione sempre di un'urgenza sempre diversa riconoscere i meccanismi che ci sono in comune perché altrimenti lo dico davvero lo trovo molto molto deprimente le enfasi in cui vengono presentati quelli che sono continui impoverimenti sempre in quell'articolo importante che appunto vi invito a leggere c'è sul Guardian ma c'è anche in varie traduzioni italiane di Saskia Sassen si dice le città rischiano di essere il luogo in cui diciamo le classi subalterne non riescono più a scrivere la loro storia cosa che invece hanno fatto hanno fatto nel loro quartiere hanno fatto con le loro piccole attività economiche hanno fatto con i loro movimenti e il tentativo del capitale a questo punto è di impedire e questo è molto chiaro quell'esempio che tu citavi di Bolzano dei delatori sugli autobus in realtà saranno i delatori per chi non ha quell'euro e mezzo per pagare il biglietto ma saranno anche i delatori di eventuali forme di protesta dei autisti quindi è chiaro che poi si rilega e quei pochi lavoratori che rimangono che appunto sono anche loro vittime nelle loro eventuali rivendicazioni dalla stessa retorica per cui sì dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione e gettare lo sguardo oltre e vedere quali sono le dimensioni sistemiche di questa cosa e cercare di contrastarla su quel piano tra l'altro mentre Stefano faceva la domanda tu parlavi anche del fatto che una città sicura è una città vissuta cioè un posto sicuro è un posto dove le persone passano in continuazione ed è spesso nella rarefazione della presenza delle persone che si possono che si possono sviluppare attività come attività criminali che possono di vario tipo mi viene in mente come sicuramente tu venendo dalla stazione te ne sarai corto magari qua e là ci siano ancora appesi agli alberi alle vie eccetera i tricolori Trento tre settimane fa è stato oggetto della donata degli alpini durante la donata sono stati sospesi di vieti di consumo di alcol nei luoghi pubblici di fatto proprio non è un se fatto finta di niente no no è stato proprio sospeso chiaramente il consumo il divieto di consumo di alcol nei luoghi pubblici durante la donata sentivi le persone che dice sentivi le persone vedevi le persone che si muovevano a Trento felici dicono ah che bello vedere Trento che ci si sente più sicuri eccetera i giornali hanno dipinto naturalmente come quattro giorni di cuccagna del carnevale più bello del mondo che bella Trento in questo modo che bella Trento vissuta eccetera e in nessun modo sono riusciti loro per primi a evidenziare la contraddizione e questo voglio vedere il lato positivo perché esiste anche naturalmente il lato in ombra a evidenziare la contraddizione di una città di cui ci si lamenta del fatto che non è sicura in alcune sue zone e allora si preme sulla repressione si chiudono prima i bar ma naturalmente quelli per le persone più povere si persegue la prostituzione eccetera mentre fa ridere che durante la donata degli alpini sono proprio stati ripresi degli atti sessuali in luogo pubblico da parte di prostitute anche e nessuno si sia scandalizzato in nessun modo con questo non voglio denunciare tutt'altro per me la città in cui si fa l'amore gli angoli delle strade una città vissuta può anche scapparti da pipì e tu la puoi fare in un angolo senza per forza richiamare il decadimento dei costumi delle persone i giornali locali ma in generale la politica eccetera non è in nessun modo condannato queste cose che sono successe ma già il giorno dopo si è già tornati naturalmente evidenziando come gli alpini si portano via tutto quanto e puliscono ogni cosa perché sono bravi cosa che non era comunque vera e tutt'altro giorno dopo si è ritornato a dare spazio alle notizie del degrado della portela delle gang criminali di Piazza Dante che va recintata delle lemose delle panchine che per fortuna davanti al punto di incontro storico luogo di solidarietà a Trento sono state tolte le panchine perché bivaccavano questi polacchi tutto il giorno anziché venire mangiare e andarsene via si è ritornati a questa retorica dov'è la contraddizione principale in che modo potremmo usare quello che è successo a Trento in quei tre giorni lasciando perdere naturalmente che durante quei tre giorni è stata esercitata violenza nei confronti di molte è stata riportata testimonianza a parte di molte donne che hanno subito violenze verbali fisiche passando attraverso la città il centro ma che contraddizione rivela quello che è successo in questo modo a me appunto al di là anche qui delle note evidenti mi fa pensare che appunto la lettura del decoro del degrado del decoro come idee senza parole quindi contenitori che servono a indirizzare dell'energia violenta nei confronti di soggetti esclusi sia particolarmente valde in questo senso nel senso che il maschio italico ha diritto di far festa e di sfogarsi in tutti i modi che vuole se poi si richiama a ritorche nazional militaresche tanto meglio e tanto di guadagnato peraltro appunto nell'approssimarsi dell'anniversario di una carneficina della fine di una carneficina che è la prima guerra mondiale quindi questo mi sembra che rivela evidentemente che il decoro del grado non sono ciò che dichiarano di essere che banco poi lo dichiarano particolarmente in maniera precisa ma sono oggetti che si usano contro delle categorie che vanno punite per ciò che sono i loro comportamenti contano poco il degrado è il migrante il degrado è il povero il degrado spesso è il giovane il degrado è chi occupa una casa e queste sono le categorie che vanno colpite tutto il resto sono appunto queste idee vuote che servono per caricare a molla le persone e lanciarle contro questi nemici inventati mentre nel frattempo appunto il modello di Stato neoliberale gli sta sottrendo la sicurezza sanitaria della propria salute il proprio servizio sanitario la sicurezza di avere un reddito d'anziano e delle sicurezze molto più pregnanti e sostanziose di quelle appunto che si inventano e su cui si ricama in questa indistinzione appunto tra crimine e fastidio bene se non ci sono altre domande finiamo qua grazie a Wolf e grazie a voi che ci siete stati e siete rimasti qualche idea e qualche direzione qualche parola in più su cui riflettere per per entrare nei discorsi in ottica di trasformazione di rivoluzionare quello che è l'immaginario attuale il festival dell'oltre economia continua con con un momento scusate un attimo perché volevo sottolineare come il festival continui alle 21.30 con un live di Ella Codesta Elie De Mon e Steel Wheels domani i laboratori e ci sarà dedicato